Risultati complessivamente molto buoni con un grado di percezione della qualità da parte dei cittadini che rispecchia le aspettative. I dati riferiti al 2010 emergono dall'indagine annuale condotta dall'azienda sanitaria dell'Alto Adige realizzata tramite un questionario inviato per posta a 6.750 ex pazienti, ovvero tutti coloro che tra il 12 di aprile e il 15 di maggio dello scorso anno sono stati ricoverati per un periodo più o meno breve in uno dei sette ospedali provinciali. Tra i parametri sottoposti al giudizio degli ex ricoverati, qualità percepita dell'assistenza medica e infermieristica, comportamento e gentilezza del personale medico e paramedico, informazione e comunicazione, organizzazione e tempi di attesa, vitto e alloggio. E la risposta è stata nel complesso più che positiva, voti alti da chi viene da fuori, mentre più critici sono i giovani assieme alle donne. Anche secondo l'indagine Osserva Salute 2010, l'Alto Adige si confermerebbe al primo posto nella graduatoria nazionale per ciò che riguarda la sanità, ma il confronto si vince anche in ambito internazionale. Il raffronto con il rapporto della rilevazione tedesca Gesundheitsbarometer evidenzia la maggiore soddisfazione dei pazienti sud-tirolesi rispetto a quelli germanici. Anche il confronto con la media italiana, siamo al primo posto nettamente e questo ci dà soddisfazione, ma anche con l'estero con la Germania, anche il confronto con la Germania usciamo molto bene, meglio di loro. E questo è una soddisfazione, con tutti gli impieni quotidiani, con tutti gli errori e i problemi, questa è una soddisfazione, insomma anche punti positivi.